ah no 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 che cazzo è ma che cazzo è che mi sta guardando ma porca di quella vaffan cazzo è che mi sta guardando ma porca di quella vaffanculo ma vaffanculo e ciao a tutti i gamer qui è il mister danno che vi parla e siamo tornati con rainbow Vai spacchiamo qualche culo Anche se magari E' più probabile che gli altri lo spaccano a noi Ma questi sono dettagli Non dovete dirlo a nessuno A nessuno avete capito Spero che comunque apprezzate Questi miei video che vi sto portando Di questo giochetto Tanto voglio dire alla fine è sicuramente un bel gioco Però spero che voi li appreziate Oh poca puttana Oh fuck C'è un casino assurdo qui In questa zona madonna Siamo in attacco Siamo con pitch Sì pitch Solo che il drone vorrei tirarlo fuori Ma ho paura tirarlo fuori adesso Devo dire la verità Però mi sa che occorre Cristo Ok ho fatto un assist Ho fatto un assist giustamente Con il drone Ma fa morire ammazzato Porca Voglio la kill Ma porca no Volevo la kill Io Volevo la kill Ho fatto due assist Non ci posso credere Ho lasciato con la fistolina È stata bellissima Dai va bene Vucumpra Vucumpra Vendo giubbotte antiproiettili Vucumpra Vucumpra 5 euro 5 euro Prendere Prendere giubbotte antiproiettili 5 euro Sì sì Sgancia i soldi Beh Oh oh Ecco bravissimo Ma dato me ne ha dati 10 Bravissimi Bravissimi Così vi voglio Così io vendo tutto Vendo tutto Il mio magazzino è pieno Sono un Vucumpra Provetto Comunque ragazzi A parte di scherzi Ho comprato Ho preso Ho preso Che ho comprato Ho preso il rock Il Vucumpra di turno Il Vucumpra della gignia O come il resto si chiama Ginger Ginger Quel cazzo che sia Io sono completamente ignorante In questo gioco Ma non me ne frega nulla E un'altra cosa Che Un'altra cosa Una cosa Che ho cambiato Rispetto all'ultima volta Che mi avete visto giocare Insieme Nel video insomma In quello scorso È il fatto che Non gioco più Dentro All'unico A quel punto di merda Lì Nel solito punto Ma Non me la campero Ma bensì me la gioco Un po' più all'attacco Tanto da Creare un qualcosina Un po' di più interessante Yes Ma vaffanculo Cosa volevi fare Contro Rock Rock è l'idolo Il mio idolo Rock Rockami tutto Sì Da che l'abbiamo fatta Sì Mori Mori Cristo Ho 52 di vita Se non attimino Nella merda C'è un altro L'altro kill Occhio Double Porca voglia Madonna che salvataggio Ragazzi Che salvataggio Madonna che azioni Porca puttana Ragazzi Mi sento un po' Nella merda Sì Che salvataggio Che salvataggio Non Σ Mamma Fa culo Ragazzi Fa due 3 Ragazzi Madonna Che Sì guardate guardate madonna oh yes 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 e gioco nel rampino gioco nel rampino ehm sì l'unica cosa qua non posso distruggere eh niente usiamo qua dai mi dispiace un po' spaccarlo in questo modo però effettivamente insomma mi serve voglio dire dobbiamo ben poca possibilità mi sembra libera ok proviamo a rompere il nostro amico blackbird rompiamo doppertutto come piace a noi eh qua rompo no io direi di no io direi di no anche perché possiamo evitare oh 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 piano piano amico mio piano vacci piano ok blackbird diciamo se noi siamo tuoi amici abbi fiducia in noi chi ne fa le feci porca 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 l'ho visto non so se l'avete visto anche voi ma io l'ho visto ed era bruttissimo eeeh sbam 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 oh yes oh ma che cazzo fai mi spari addosso ah no ha sparato la telecamera ah bravo bravo lui ok proviamola anzi prima di provarla ma porca blackbird c'è un coglione c'è un coglione guarda guarda che finocchio che è morto malissimo vammori ammazzati vai io sparo a caso che magari qualcuno in testo lo prende una volta mi è successo ok piano grande ragazzi abbiamo tinta tra zero davvero fantastico non so quanto vera lungo questo video ma spero comunque che vi sia piaciuto nel caso possiamo ma cosa ma che cosa ho visto che cosa ho visto ha sparato al computer cioè lui sapeva esattamente che dietro al computer c'era il nerdone che stava giocando al computer madonna mia madonna che robe che robe vabbè dai non ci lamentiamo siamo arrivati in secondi 4 kill 2 assist io direi che è una buona partita 3660 mancava poco e arriveranno anche i premi io dunque vi invito a lasciare un bel mi piace iscrivetevi al canale per nuovi video commentate fatemi sapere cosa ne pensate cosa vorreste vedere nei prossimi gameplay magari anche un gameplay insieme a uno di voi fatemelo sapere noi come sempre ci becchiamo al prossimo gameplay alla prossima